Sarri, voi le prime partite non andavate, tutti lamentavate, io sono l'unico che l'ho sostenuto. In quel periodo brutto, perché Sarri è un grande allenatore, però ognuno può stare in gioco, no? Ognuno ha un gioco suo, chi è più moderno e chi è meno moderno. Le donne chicca, signor Zona, i numeri 4, 3, 5, 4, 4, giocate via all'8, che sono una roba giornalistica. Noi ci abbiamo alla conclusione.